Vera Gemma è stata una delle protagoniste di quest'edizione dell'Isola dei Famosi. Ma nonostante fosse tra le partecipanti più chiacchierate, la sua esperienza in Honduras si è già conclusa. Eppure, l'ormai ex-naufraga si è detta molto soddisfatta del suo percorso all'interno del reality e sicuramente rifarebbe tutto da capo. La showgirl si è raccontata in una recente intervista rilasciata a Verissimo ed è tornata a parlare della sua esperienza in Honduras e della sua chiacchieratissima relazione con Jedha. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato a riguardo Vera Gemma racconta la sua esperienza all'isola. Esperienza unica e bellissima. Vera Gemma è stata ospite nel salotto di Sylvia Toffanin nell'ultima puntata di Verissimo andata in onda ieri, 22 maggio. La showgirl è tornata ancora una volta a raccontare la sua esperienza all'isola dei famosi che si è ormai conclusa da qualche settimana. E, stato tanto difficile. Ma è un'esperienza unica, bellissima. Imparagonabile a qualunque cosa vissuta nella vita perché penso che nessuno abbia mai vissuto nulla di simile, ha esordito Vera Gemma nel corso dell'intervista. La showgirl è poi finita a parlare della sua relazione con Jedha, che nonostante non fosse tra i concorrenti è stato uno dei protagonisti di quest'edizione dell'isola. Il fidanzamento tra il giovane e Vera Gemma è stato infatti più volte al centro della polemica per via della grande differenza d'età. Eppure, per l'ex naufraga questo non è assolutamente un problema, anzi. Il nostro è un rapporto contrastatissimo. Tutti sono rimasti scioccati per questa differenza d'età, ma alla fine quando c'è l'amore non dovrebbero contare queste cose, ha ammesso Vera Gemma. Insomma, la showgirl ha apprezzato molto la possibilità che gli è stata data da Hilary Blasi per farsi conoscere meglio al pubblico di Canale 5 e sicuramente ripeterebbe tutto di nuovo. Chissà se a questo punto più avanti potremmo vederla in qualche altro reality.